Una polemica protestuosa, forse solo politica, per cercare un po' di visibilità. Il parco è diventato uno strumento di battaglia politica, specialmente con certi pseudo alleati. Sul parco non abbiamo fatto niente sostanzialmente, abbiamo rimosso delle piante che erano cadute sul sentiero dove passano le auto di controllo delle forze dell'ordine e abbiamo ripulito l'area verde a ridosso del parco giochi. Quindi è stato fatto un lavoro di manutenzione sostanzialmente, ma molti hanno fatto articoli sul giornale, polemiche, senza essere mai stati al parco, senza metterci i piedi dentro e non sapevano nemmeno che cosa avevamo fatto. Ripeto, abbiamo fatto solamente un lavoro di piccola manutenzione, tronchi a terra e pulizia del sottobosco a ridosso dell'area giochi. Un lavoro vero, era stato fatto circa un mese e mezzo fa, prima del grande evento. Abbiamo affidato un lavoro di circa 20 mila euro per la potatura e il taglio degli alberi, quelli già secchi e la potatura delle piante, quelle più grandi, sul viale che porta alla villa, lungo la ciclabile di via Cimarosa e lungo la ciclabile di via Solferino. Se ci passate si vede chiaramente, tant'è che nonostante il forte vento e le centinaia di piante che sono cadute in tutto il territorio, lì non abbiamo avuto un crollo nelle aree dove siamo intervenuti. Io vorrei sottolineare che stiamo parlando di un parco urbano, non del Bosco delle Cesane, parco urbano dove la priorità è la sicurezza, tutto il resto viene dopo. Noi non tagliamo niente, sulla stampa avevano milantato il presunto taglio all'interno del Bosco Storico, il Bosco Storico non lo abbiamo mai toccato, non lo toccheremo mai, non raccogliamo nemmeno le foglie, quindi si tratta, non lo so come chiamarlo, come definirlo, di terrorismo psicologico nei confronti miei o di altri, non lo so, a me non mi scalfisce minimamente. Noi continuiamo ad andare avanti nel rispetto di tutti, soprattutto della sicurezza, della natura. Sono 23 ettari di parco nel cuore della città dove tutte le sensibilità possono convivere. Siamo riusciti a mettere in piedi anche il, proseguire il discorso con Utopia, grazie alla collaborazione con la Gulliver. Vogliamo portare all'interno del parco, anche nei mesi, quelli meno fortunati dal punto di vista della fruibilità, come sono quello di dicembre, gennaio e febbraio, gente dentro. Utilizzeremo anche il progetto Utopia per portare gente al parco, poi dalla primavera in avanti, tutti gli eventi che negli ultimi anni siamo riusciti a mettere in piedi.